Ciao, sono Antonio Carbone ed insieme ai miei fratelli, Nicola e Luca, produciamo olio extravergine di oliva di altissima qualità. Lo facciamo in Basilicata nel nostro frantoio, innovando costantemente i processi produttivi e mantenendo viva la tradizione olearia di famiglia. Trasformiamo le olive entro la sera del giorno di raccolta. Le lavoriamo a freddo, in assenza di ossigeno e confezioniamo l'olio solo al momento della spedizione, preservando tutti i profumi e le sue proprietà salutari. E per garantire la freschezza dell'olio fino all'ultima goccia, abbiamo sostituito la classica latta con l'innovativo baking box. Il comodo rubinetto ti permette di prelevare comodamente l'olio che ti serve, senza far entrare ossigeno ed in totale pulizia. L'olio è un prodotto che va onorato e noi vogliamo essere gli ambasciatori di questo prodotto. Se vuoi mettere in tavola il vero olio extravergine di oliva italiano, clicca sul tasto Scopri di più sotto questo video e leggi le semplici istruzioni che troverai nella pagina che si aprirà. Che dire, se hai guardato fin qui, ci vediamo tra un attimo dall'altra parte. Ciao!